Si svolta a Teramo sotto la sede del comune chiuso a causa del terremoto la mobilitazione dei rappresentanti istituzionali dei territori colpiti dal sisma, volta a sensibilizzare la politica nazionale sul sentito argomento della ricostruzione. Un appuntamento fortemente voluto organizzato dal sindaco di Teramo, Gian Guido d'Alberto, a cui hanno partecipato i massimi rappresentanti del lanci regionale e dei sindaci del cratere delle quattro regioni interessate, Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria. Oggi inizia una mobilitazione permanente per avere le risposte che non abbiamo ancora ricevuto, non tanto noi sindaci ma attraverso i sindaci i nostri territori. Il momento è decisivo, in Parlamento si sta discutendo la legge di conversione del decreto sblocca cantieri, noi abbiamo chiesto misure straordinarie per una situazione grave, di gravissima emergenza, permanente e queste misure straordinarie le vogliamo subito, ora all'interno della legge di conversione del decreto sblocca cantieri, così come c'era stato promesso prima delle elezioni. La fase elettorale è finita, adesso le promesse e gli annunci vogliamo che si traducano in fatti concreti e oggi i fatti concreti sono norme giuridiche inserite all'interno della legge di conversione. La partita si gioca a Roma e quindi in questo momento è una chiamata alla responsabilità da parte di tutti i nostri parlamentari, a prescindere dalle appartenenze geografiche del cratere e delle appartenenze politiche si stringano intorno al nostro territorio perché ieri abbiamo festeggiato la nostra Repubblica. Festeggiare la Repubblica significa soprattutto assumersi le responsabilità per dare risposte al territorio, tutte le istituzioni chiamate in causa. Noi come sindaci siamo in prima linea e lo stiamo facendo da due anni e mezzo ormai. Oggi dobbiamo partire, ripartire con una ricostruzione che purtroppo è ferma attraverso modifiche legislative. Quindi il Parlamento deve dare le risposte. Il principale problema che affronta l'USR è lo stesso che hanno i comuni del cratere sismico, la carenza di personale. È evidente che oggi le richieste e le istanze che sono pervenute dal territorio non sono state integralmente soddisfatte dagli emendamenti sino ad oggi approvati. Noi confidiamo che gli ulteriori emendamenti e subemendamenti presentati e in discussione domani in Senato possano essere raccolti per garantire il potenziamento richiesto. Ad oggi c'è soltanto un emendamento depositato che prevede l'assunzione di un contingente di 200 unità di personale per il potenziamento degli uffici tecnici dei comuni, ma di tutti i comuni del cratere sismico, non soltanto abruzzese ma anche delle altre regioni colpite dal sisma e degli USR. Quindi capite bene che 200 unità sono insignificanti per le esigenze e fa bisogno del territorio.